Salve a tutti, oggi ho deciso di fare un video tutorial su come ingrandire un video. Mi spiego meglio. Esempio, non vi è mai capitato utilizzando Movie Maker o altri programmi per editar video, che alla fine della conversione il video vi spunta con le due barrette nere laterali. Oggi io vi insegnerò, anzi vi dirò che programma utilizzare per togliere queste due barrette. Una volta convertito con questo programma il video, il video diventerà a schermo intero. Scusatemi per la ripetizione. Comunque ora andremo a vedere come fare e che programma utilizzare. Eccoci qui sul desktop del mio computer. Scusatemi per il disordine ma è pieno di icone, musica e altre cose. Comunque ora andremo a vedere che programma utilizzare. Il programma è questo qua, si chiama iWits of Free Video Converter. Io ce l'ho già qua aperto. Una volta aperto il programma spunterà questa finestra. Noi per modificare il video dovremmo prendere un video ovviamente. Lo trasciniamo dal desktop, lo mettiamo qui. Aspettiamo che lo carica ma è velocissimo. Almeno si spera che il mio computer ecco. Ci abbiamo fatta. Allora vedete qua c'è il video. Qua dove c'è la mia freccina c'è il video. Noi per togliere le due barrette nere laterali dobbiamo schiacciare sul pulsante Edit. Si aprirà un'altra finestra. Qua c'è il video. Scusatemi ma il mio computer oggi è un po' lento. Sta facendo molte cose. Comunque qua si vede che il video è molto piccolo. Qua è piccolissimo. Non so perché Movie Maker mi ha fatto sto lavoro. Comunque questo qua sarebbe il video originale e qua come diventerà. Allora noi per modificarlo basterà tirare giù e su questo coso qua che lo evidenzia. Facendo così come potete notare nel video si ingrandisce lo schermo. Se noi facciamo così. Io se faccio partire l'anteprima da qua si vedrà che è più grosso. Comunque una volta che abbiamo deciso che grandezza dare al nostro video schiacciamo sul tasto sul pulsante. Ecco. Allora adesso una volta editato il video basterà schiacciare su Start e il programma convertirà il tutto. Qui in basso dice quanti minuti mancano. Di solito spara un po' alto di minuti. Dice magari 20 minuti ma ne passano appena appena 5. Un problema del programma. Comunque una volta che sono passati quei 5-10 minuti il video sarà convertito e sarà a schermo pieno o come abbiamo deciso noi. Comunque ora non registro tutta la conversione se no il video diventerebbe lungo. Eccoci di nuovo qui ha quasi finito di convertire il video. Aspettiamo quei 15 secondi 16. Comunque metterò in descrizione il download di questo programma che è totalmente gratuito. Sì qua ripete 10-11. C'ha il contatore un po' scemo sto programma. Comunque. 99 dai 1% mancano. 1% 99 100 Comunque quando ha finito viene fuori questa finestrella con scritto che è completato. Noi cliccheremo su ok e si aprirà una cartella dove c'è il video. Questo qui è il video finale. Quello convertito senza le due barrette nere. Schiacciano sopra così guardiamo l'anteprima. Eccoci qui con il video convertito. Eccolo qua. Come potete vedere è molto più ingrandito. Ricordo che Windows Media Player le barrette in alto le mette a piacimento. Però se uno carica il video su YouTube si vede a schermo intero. O come abbiamo deciso di allargarlo. Comunque. Tutto qua. Sto qua in qualità HD. Così vi faccio anche vedere che si vede bene. Esempio io mando avanti qua. Vedete si vede benissimo. Comunque. Boh. Ci sono anche le altre qualità quelle più basse. Dipende un po' come volete voi. Certo che se uno fa in qualità HD. Peserà di più il video. Però si vedrà molto molto meglio. Mi stavo per dimenticare che con questo programma. Volendo possiamo solo convertire i video. Qui da me. L'ho messo in mp4 HD. Comunque ci sono altri formati. Tra cui. Per PSP. PS3. Apple TV. iPhone. iPod. Windows Mobile. Xbox. 360. Qua c'è scritto Xbox. Ma Xbox 360. Poi c'è WMA. O tutti gli altri formati. Comunque. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Se volete mettete mi piace. Iscrivetevi al canale. E condividete questo video sui social network che più preferite. Il prossimo tutorial non so cosa farò. Lo farò meglio di questo. Un po' incasinato. Anzi ho anche avuto problemi con il PC. Che in pezzi che registravo il video. Andava a scatti. Mi saltava. Comunque l'ho risolto. Il prossimo tutorial come ho già detto poco fa. Non so cosa farò. Vedrò. Comunque. Ciao a tutti. Alla prossima.